Il mio nome è Elisa Antoni, sono un gimnasta e ho già lavorato nei due Olimpiadi. Con la mia squadra vengo la medalla di silver in Athens 2004. Ho lavorato tutti i giorni per ottenere un nuovo sogno. Vengo a voler a Londra nel 2012 come un battaglia. I will bring the Italian colors on my wings. Sport is all my life and I'm counting down the days to match the world. Fashion, culture, sport, poetry, history. Come on Italy, come on ispolicast! It's one year left to go. We have one year to be the best. I feel the Italian hearts beating all together. And the Olympia's heart beats in me. Giving emotion to British people. It will be our goal. Possa ragazzi, banda se aspetta! facilitating the line of kisses in me. Theพur possiamo be the most options. I feel the only one is a мало 1945. It may possibly make a 정도로 rocks male with a red flag ofONEY. I feel the only one is a car from thecritians. The hardest thing in this for me came to be so very smoothly. Grazie.